E' stata in musica al teatro Carlo Gesualdo di Avellino, presentato il cartellone degli eventi. Da luglio a settembre 10 concerti, 3 serate dedicate ai bambini e 5 giorni dedicati al festival di musica elettronica Flussi. Musica al parco, talenti di natura, il tema di quest'anno della lunga estate avellinese. Si apre il 7 luglio e si chiude il 22 settembre con due serate ad ingresso gratuito nel parco del teatro. Ancora da definire la data dell'unica tappa campana di Goran Bregovic, la rock star dei Balcani che presenterà proprio ad Avellino il suo nuovo album. La casa discografica dell'artista con sede a Modena è al momento chiusa per gravi danni subiti a causa del sisma che ha sconvolto l'Emilia Romagna. Tragedia verso la quale il presidente Cipriano ha voluto esprimere solidarietà attraverso la donazione di un euro per ogni biglietto venduto. Si, confermiamo l'idea di tenere il teatro sempre aperto nei fatti. Abbiamo presentato la seconda edizione della stagione estiva del Carlo Gesualdo che faremo nella location all'aperto, quindi nel teatro all'aperto del Gesualdo. E arrivano ad Avellino una grande parata di stelle, le grandi stelle del jazz, le grandi stelle internazionali del jazz con nomi dalla Francia, dagli Stati Uniti, i migliori nomi italiani. E poi il concerto di Goran Bregovic che faremo in teatro con questo grande artista che presenta il nuovo album. Ma anche i più piccoli, i bambini, quindi tre eventi nel parco del teatro, abbiamo chiamato questa rassegna il parco degli alberi parlanti per avvicinare i bambini al teatro attraverso la natura. E poi la nostra coproduzione con il festival di fine estate Flussi dedicato alla musica digitale dal 28 agosto al primo settembre. Quindi grandi stelle per un teatro che si conferma protagonista. Il teatro Gesualdo si apre anche alla solidarietà a favore delle vittime del sisma in Emilia Romagna? Sì, abbiamo ritenuto assolutamente doveroso ovviamente da italiani e da irpini, cioè da popolazioni che conoscono bene il dramma di un terremoto, fare un gesto. Che è un gesto anche simbolico ma che diventerà poi concreto. Quindi doneremo un euro per ciascun biglietto a fine rassegna a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Ripeto, mi sembra un segnale doveroso per contribuire anche a ricostruire una terra ricca di cultura. L'Emilia Romagna è la terra dove c'è una grandissima tradizione musicale, dove hanno sede oggi grandi fondazioni liriche, sinfoniche, dove ci sono teatri importanti. Quindi da un teatro non poteva che non arrivare un messaggio di solidarietà. Un cartellone ricco e di qualità studiato dal CDA del teatro Salvatore Gebbia, Carmine Santaniello e Luca Cipriano, in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, e Luciano Moscati dell'associazione I Senza Tempo, presente in sala stampa insieme al sindaco di Avellino Giuseppe Galasso. Siamo alla seconda edizione, l'anno scorso fu una sfida ampiamente vinta con spettacoli e artisti di grosso valore, intensa partecipazione anche di spettatori venuti da fuori. E quindi questo ci ha gratificato, ci ha indotto e ha indotto soprattutto il Consiglio di amministrazione, il Presidente Cipriani, a credere ancora di più in questa iniziativa che è diventata oramai già la seconda edizione, un punto di riferimento culturale importante e tra l'altro il fatto che sia molto partecipato crea anche un indotto economico e di questi tempi non guasta.